E' un capodanno infinito quello teramano. Chissà il sindaco Brucchi quante volte avrà maledetto il giorno in cui ha deciso di farlo, contro tutto e contro tutti. Non bastassero le polemiche interne, adesso ci si è messa anche Marina Rey a sputare nel piatto dove ha mangiato. Se abbondantemente o no ci interessa fino a un certo punto, visto che la cosa interessante per i teramani è stato il costo totale del capodanno che ammonta, questo almeno è certo, a poco meno di 40.000 euro. Chiaro che l'entrata gamba tesa della Rey lascia alquanto perplessi. Giusto che l'artista faccia chiarezza su quello che è stato il suo cachet, ma non è giusto che entri in affari che non la riguardano. Su come i teramani siano amministrati e su quello che è il loro grado di informazione non sono fatti della Rey. La maggioranza degli stessi infatti tra maggio e giugno ha deciso da chi farsi amministrare. Giusto o sbagliato che sia è la regola della democrazia. Chi vince le elezioni amministra e scrivendo quelle cose la cantante ha offeso tutti coloro che hanno votato per Brucchi. Questo è chiaro. Avremmo capito lo sfogo se non fosse stata pagata, ma visto che i soldi li ha presi una volta passata l'incasso, poteva anche tacere. D'altra parte le polemiche non le ha certamente fatte né Brucchi e neppure l'assessore Lucantoni. Dunque perché replicare e attaccare chi ha avuto il buon cuore di offrire alla Rey un palcoscenico e un ingaggio per il Capodanno questo sinceramente ci sfugge. E poi stia tranquilla la buona Marina. I teramani sono bene informati. La stampa, almeno a Teramo, fa il suo buon lavoro e non servono lezioni di comunicazione a nessuno, soprattutto da chi fa un'altra professione. Siamo capaci di informare, scrivere, parlare e raccontare ai teramani e agli abruzzesi quello che accade. D'altra parte le polemiche di questi giorni lo dimostrano. Un'ultima nota a margine, tanto per non dare ragione a Marina Rey. Il costo della cantante bene o male si sa, ma come si è arrivati alla cifra finale? Quanto è costato ad esempio il service? È vero che fino al Capodanno non aveva mai lavorato per il comune di Teramo, pur essendo della provincia? È vero che qualche capobastone lo ha appoggiato? Perché non è stata fatta una gara di appalto? Queste sono le domande che poniamo e attendiamo delle risposte. Vede signora Rey, noi ad informare ci proviamo, senza il bisogno di lezioni di giornalismo, da chi giornalista non è.